Seconda vittoria consecutiva per il Cesena che batte lo Spezia al termine di un match ottimamente condotto dai ragazzi di Mister Camplone. Bianconeri sul pezzo già in un primo tempo in cui l'unico lampo è la battuta alta dalla distanza di Ligi, anche se è nella ripresa che il Cesena cambia passo. Come al secondo minuto con la sponda di cocco per garitano, letteralmente murato da Cicizzola. Pochi minuti dopo è il decimo, ecco l'episodio spacca partita. Renzetti mette al centro, la palla sbatte sul terreno di gioco ed incoccia il braccio sinistro di Migliore. È penalti per il Cesena che Ciano trasforma da par suo, angolando l'esecuzione quel tanto che basta per infilare l'angolino alla sinistra di Cicizzola. Lo Spezia ammaina bandiera bianca a quattordicesimo, quando Schaudone stende sciaguratamente Garritano a palla lontana. Secondo giallo per lui ed espulsione che arriva per il numero sette ospite, seppure in maniera tardiva. Al Cesena manca solo il colpo del KO, come in occasione della punizione affilatissima di Ciano, che Cicizzola riesce a respingere in corner. Nel finale ogni sforzo dello Spezia di impattare il match si rivela vano ed il Cesena può così festeggiare per una classifica che inizia a dare qualche sicurezza importante alla truppa di Andrea Camplone.